Finalmente è formalizzato l'atto con cui si dà avvio alle procedure per l'individuazione della sede della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione che sorgerà all'Aquila. Ci saranno dei corsi specifici per i dipendenti della pubblica amministrazione, ma non solo perché stiamo lavorando anche con la Regione affinché diventi un polo formativo di rilevanza anche per le esigenze abruzzesi. Siamo sulla buona strada per il rilancio complessivo della città e del territorio e l'implementazione dei centri di formazione facevano parte della strategia della Carta dell'Aquila che ha già portato al risultato di Capitale Italiana della Cultura per il 2026.